La Mercedes C63 AMG Coupé completa la gamma C AMG affiancando la berlina e la station wagon. Il debutto è previsto a brevissimo, ma in questo video spira e vediamo negli ultimi collaudi. Il motore è un V8 AMG da 457 CV con una coppia di 600 Nm, capaci di un'accelerazione a 0-100 km orari di appena 4,5 secondi. Per una velocità autocontrollata e autonomicamente di 250 km orari. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!